Io credo che ci siano stati tanti interventi, ci sono stati dei toni e delle considerazioni sfumate, anche diverse, evidentemente c'è chi ha esaltato, c'è chi ha forse anche per certi aspetti contenuto il risultato. Io credo e devo dire in questo senso siamo forse anche di parte che sia da sottolineare un grande risultato politico che devo dire in molti hanno comunque sottolineato perché noi se consideriamo che il 12 dicembre ancora non sapevamo se c'era la chiusura del negoziato, ecco è un lasso di tempo veramente ridotto rispetto a questo Consiglio, quindi poco più di un mese fa non avevamo questo tipo di certezza. E devo dire che è una certezza questa la chiusura del negoziato tecnico e la comunicazione ufficiale che era un risultato che aspettavamo da molti anni, da otto anni, ci sono stati diversi governi che hanno seguito questa trattativa e credo sia un risultato politico straordinario per il Paese, non è tanto per sottolineare i meriti della segreteria di Stato e gli affari esteri che comunque ha chiuso per il governo questa negoziazione e questo percorso e non è credo un fatto secondario. Ma molti si sono soffermati sugli aspetti economici, sul mercato unico, io credo che ci sia un aspetto anche politico molto significativo, cioè questo nostro avvicinamento, integrazione all'Unione Europea pur non diventando Paese membro, perché restiamo comunque un Paese terzo dal punto di vista istituzionale, credo sia anche un accogliere i principi di democrazia, di libertà, di diritto, di civiltà, di politica economica, di politica delle persone che l'Europa rappresenta nel mondo, cioè è il posto migliore al mondo dove si vivono questi diritti, dove c'è la sicurezza dei cittadini, dove ci sono i diritti delle persone. Quindi noi abbracciamo anche questo percorso con le nostre tradizioni politiche istituzionali di un Paese che ha nel suo DNA questi valori e questi principi che accogliamo e riconosciamo e che al tempo stesso esaltiamo con l'Unione Europea. Questo comporterà sicuramente delle evoluzioni per il nostro sistema Paese, dovremo sicuramente aggiornare molti aspetti normativi, dovremo modernizzare probabilmente delle abitudini, una logica di integrazione con le regole e il mercato europeo, ma credo che questo sia un percorso che a noi ci migliorerà, ci darà la possibilità di esaltare forse le nostre caratteristiche istituzionali, le nostre caratteristiche di Paese virtuoso, le nostre caratteristiche di piccolo Paese inserito in un contesto internazionale. E quindi noi sosteniamo pienamente quest'ordine del giorno che ha depositato quasi tutte le forze politiche nell'Aula Consigliare, che impegna sostanzialmente il Governo e la Segreteria a condurre una operazione di comunicazione, di condivisione, di confronto con la Commissione Mista, con la popolazione sanmarinese, con le commissioni preposte, quindi la Commissione Esteri, ma anche le commissioni specifiche in caso di approfondimento di materie specifiche. Penso al dossier bancario, certamente sarà necessario coinvolgere anche la Commissione Finanze, oltre che la Commissione Esteri. Ecco, quindi noi credo che sia stato svolto un lungo dibattito, non voglio aggiungere altro, noi siamo molto convinti insomma di questo percorso, siamo molto convinti del lavoro svolto e siamo anche molto convinti che questo passaggio aprirà una fase nuova per il nostro Paese, per le opportunità del nostro Paese. Quindi credo che sia un passaggio di grande innovazione, di grande risultato anche istituzionale per il nostro Paese che noi cogliamo a pieno e sul quale non giochiamo una partita in difesa, giocheremo una partita importante nel senso delle riforme e dell'approfondimento. Quindi credo che l'impegno del Governo di creare lo strumento di confronto, di creare come è stata definita le macro strategie di adattamento dell'impianto normativo sia un passaggio necessario da svolgere nei prossimi mesi e in un atteggiamento, in un approccio come è avvenuto in questo dibattito consigliare che è il primo su questo tema, in modo ampio fra tutte le forze politiche, oltre che la maggioranza e il Governo. Per cui noi supportiamo evidentemente quest'ordine del giorno che dal nostro punto di vista sostituisce evidentemente gli ordini del giorno depositati, non so le forze politiche che hanno depositato l'ordine del giorno come vorranno comportarsi, ma riteniamo che quest'ordine del giorno crei quella base di lavoro tecnico e di confronto necessario fra tutti per giungere ad una condivisione importante dei problemi e delle prospettive che questo accordo genera per il Paese. Grazie, la parola va al Segretario Beccari per la replica.